Ciao Ciao Buonasera Grazie Grazie davvero Ciao raga Adesso lui vi dirà qualcosa Si Sei teso? Un po' Un po' Bello Un anno fa Un anno fa Sono uscito da questo studio E la mia vita è cambiata Questa coppa sarà solo per uno di voi questa sera Ma ciò non significa che per gli altri non ci sia futuro Grazie Amici è un'esperienza È una scuola Che io rifarei altre cento volte Solo per ciò che ho imparato qui dentro Sia come artista che come persona Ormai siete in finale Quindi L'unica cosa che posso dirvi è Godetevela Divertitevi Date il massimo E soprattutto Regalateci un grande spettacolo Grazie 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 Grazie